Oggi affronteremo i temi in consonante labiale. Le labiali sono suoni consonantici occlusivi, proprio come le gutturali. Queste consonanti appartengono al gruppo delle occlusive perché si producono grazie a una temporanea occlusione del canale fonatorio. Nel caso delle labiali, l'occlusione avviene a livello delle labbra e può dare esito a tre tipi di consonanti. La labiale sorda, P. La labiale sonora, Beta. La labiale aspirata, Fi.